Eccolo qui Luigi Di Maio, grazie per essere con noi e benvenuto a Italia di Sotto. Buonasera, mi dispiace non essere lì ma è un piacere esserci almeno in collegamento. Diciamo che è una promessa per la prossima volta. Sì, va bene, molto piacere. Allora, iniziamo subito da questa vicenda del caso Cagliata. Insomma, un vostro candidato a potenza, finito in un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, finito in un'inchiesta per riciclaggio, voi avete subito preso un provvedimento, l'avete escluso. Poco fa però su Facebook ha detto la sua. Beh, io a prescindere da quello che dice Di Maio, vado avanti dritto, vado avanti dritto Tosto. Insomma, da Presidente di Calcio quale è a risposta rispetto alla sua decisione. Comenta e interpreta questa unesima mossa, un altro che si aggiunge nella lista. Ma io penso che il Movimento 5 Stelle di questi anni ha sempre dimostrato e abbia sempre dimostrato di allontanare chi non si comporta correttamente. Fermo restando che Salvatore Cagliata, mi auguro che abbia modo di dimostrare la propria innocenza nell'ambito di quel processo. E tra l'altro noi lo abbiamo candidato perché è una personalità affermata a potenza, è il Presidente del Potenza Calcio, è stato eletto Lucano dell'anno. C'è un piccolo particolare, non ci aveva detto, nonostante ci avesse esibito casellario giudiziario e carichi pendenti, di essere sott'indagine al 2016-2017. Ma si sente tradito per questo? Non è il primo che le nasconde qualcosa però. Ma guardi, io ormai non mi meraviglio più. Purtroppo quando le persone non dicono la verità e quindi non rispondono all'obbligo di trasparenza che il Movimento chiede, l'unica cosa che posso fare come capo politico è non interessarmi più dei voti che portano o dei voti che perdi, ma fare la cosa giusta che è la garanzia per i cittadini, cioè applicare le regole. Da noi non ci sono superuomini, per noi le regole sono sacre e gli italiani sapranno sempre. Di non interessarmi più ai voti che prendono, però sono voti che vanno a finire i 5 stelle. Lui è candidato all'uninominale, tra l'altro all'uninominale i candidati, quei nomi li ha scelti lei. E' da statuto il capo politico e il garante Beppe Grillo. Siccome non è il primo candidato, poi lo vedremo più avanti, che finisce sotto la renda di ingranditimento della magistratura o in altri casi, in altre vicende, c'è qualcosa che non ha funzionato? Anche per questa novità di scegliere lei i candidati all'uninominale rispetto al passato? Le dico sicuramente che su 370 candidati agli uninominali, che 3 o 4 abbiano non detto la verità, non abbiano detto la verità al Movimento 5 Stelle, mi sembra una percentuale assolutamente tollerabile. Per quanto riguarda invece le liste bloccate, noi le abbiamo composte con le cosiddette parlamentarie, cioè non abbiamo fatto come i partiti che si mettevano dentro i loro, ma le abbiamo composte con le parlamentarie. E questo che cosa significa? Sì, per le liste bloccate, quelle in cui agli italiani è stato impedito di esprimere una preferenza. Però detto ciò, noi allontaniamo anche chi ci dice solo una bugia. Io ricordo che questa volta il PD ha 29 tra indagati condannati e imputati e il centrodestra ne ha 25. A questo giro la questione morale è più lontana dal centrosinistra che dal centrodestra. Vabbè, mi dica solo questo, ma non pensa che tutti questi numeri, perché alla fine dicevo all'inizio si aggiunge uno dopo l'altro nella lista, non pensa che si possa arrivare a un numero sufficiente per creare un gruppo autonomo alla Camera? Perché sappiamo, insomma, a 10, lei da vicepresidente della Camera sa che si può costituire un gruppo. Non pensa ci sia questo rischio? Ma questo è un mito che io, è una leggenda che sta girando in questi giorni. Tenete presente che tutti coloro che erano in posizioni elegibili nei candidati delle liste plurinominali mi hanno già firmato un modulo, cioè quelli che avevano fatti furbi e non avevano restituito gli stipendi, mi hanno già firmato un modulo per rinunciare alla proclamazione, altrimenti gli facevo danno d'immagine. Questi qua invece degli uninominali, che in tutto sono 4 e non sono coinvolti nei processi, ci sono 3 persone che non avevano dichiarato una informazione riguardo al loro passato, queste persone sono i uninominali per la maggior parte perdenti. Quindi Berlusconi sta facendo i conti dicendo noi siamo pronti a accogliere i trasfughi del Movimento 5 Stelle, non esisteranno gli ex 5 Stelle in Parlamento per i conti che mi sono fatto io. Vedremo se poi alla fine sarà questo, poi il computo finale. Di Maio, allora finiamo insomma al senso di questo programma, Italia 18, lo stiamo raccontando ormai da settimane. I diciottenni andranno a votare, anzi speriamo che siano in tanti a farlo, non solo i diciottenni, insomma se abbiamo fatto una campagna io voto perché, affinché siano in tanti davvero a esprimere un diritto democratico. Beh, noi vogliamo ascoltare questi diciottenni perché insomma andranno sia a votare ma spesso la politica per troppo tempo li ha ignorati. Io voglio farle sentire due storie o meglio due punti di vista rispetto al futuro di questi ragazzi. Sentiamoli. Sono Irene, ho 18 anni. Sono Francesco, ho 18 anni. Ho paura di non riuscire a trovare qui in Italia un lavoro che mi permetta di spendere tutto ciò che ho imparato durante il mio percorso. Ho paura di non riuscire a trovare le necessarie opportunità nel mio paese. Andrò a votare perché credo di dovermi assumere delle responsabilità e di dover fare delle scelte. Andrò a votare perché credo che l'astenzionismo dia troppo potere ai voti di pancia e di protesta che sicuramente non possono essere d'aiuto all'Italia in questo momento. Cosa ce l'aveva con lei questo ragazzo, no? Questi voti di pancia e di protesta spesso, tante volte hanno riconosciuto e indicato voi dei 5 Stelle come quel bacino di voti per esprimere una rabbia, una protesta. Comunque che risponde a questi ragazzi? Che secondo me è sbagliato dire ai ragazzi soltanto dovete andare a votare. Io ero uno di loro, nel senso che tra i 16 e i 18 anni già non ne potevo più dei politici della mia città che apparivano prima delle elezioni e sparivano il giorno dopo le elezioni. E da quel momento ho deciso di cominciare un percorso, un percorso che riguardava prima l'associazionismo legato ai temi ambientali, io vengo dalla terra dei fuochi e poi col Movimento 5 Stelle. Non sono mai andato a votare il Movimento nella convinzione solo di barrare un simbolo, ma di scegliere un progetto. A queste persone non dico aderite al Movimento 5 Stelle, però la voglia di votare viene se è seguita da un percorso e è preceduta da un altro percorso che è quello di un cittadino che partecipa alla vita pubblica al di là delle elezioni. Io credo che l'astenzionismo stia aumentando oppure comunque sia notevole anche perché si bombardano gli italiani con la campagna elettorale e poi il giorno dopo scompaiono. Io credo di essere in un movimento, il Movimento 5 Stelle che ha fatto iniziative, banchetti in giro per l'Italia. Spera di poter convincere, non dico a votare, ma forse a votare anche per voi. Varie iniziative politiche al di là delle campagne e a quei ragazzi dico create o aderite ad un progetto al di là delle elezioni e poi vi verrà voglia di votare per quel progetto, ma perché credete in quella realtà e ne fate parte. Allora Di Mario, la fermo su questo solo perché ci sono alcuni dei temi su cui vorrei che lei ci dicesse come la pensa, perché ci sono dei numeri che raccontano di un fenomeno anche e soprattutto allarmante. Guardi questi, allora parliamo di un vero e proprio reato, di un business che riguarda la prostituzione nel nostro paese. Pensi sono circa 4 miliardi l'anno, questo insomma è quanto è stato stimato in un rapporto della CGA su dati dell'Istat, ma a proposito di giovani, sono tanti i ragazzi ma soprattutto le ragazze che arrivano nel nostro paese, cercando la libertà fuggono da conflitti, cercano la libertà e trovano invece la schiavitù. Noi abbiamo ascoltato le loro storie, sono delle ragazze, delle prostitute nigeriane, Gaia Mombelli ha raccolto anche un grido, un grido diciamo che forse sembra paradossale, un grido silenzioso, guardi perché. Ho sempre molti clienti perché vado a lavorare tutti i giorni, qualche volta 10 o 20 uomini solo la mattina. Le ragazze non sanno cosa le aspetta se vengono in Italia, la maggior parte pensa di fare il viaggio in aereo, ma una volta in Niger non possono più tornare indietro. Quando chiudo gli occhi penso come posso togliermi la vita, sono stanca di lavorare con il mio corpo. Io ho 16 anni. Questa casa ha 16 anni e nel suo futuro pensa di concluderlo già in questo presente, dice basta che voglio togliere la vita, cercavo la libertà e non l'ho trovata. Cosa risponde a questa giovane? Più che altro, più che rispondere a questa giovane parliamo di un fenomeno che è lo sfruttamento della donna e nel caso, in questo caso sfruttamento della prostituzione di donne straniere, che vengono ricattate continuamente e che vengono anche in qualche modo costrette a fare questo con la forza da organizzazioni criminali, a volte anche qui serve un esercito di operatori sociali che assista queste persone, le convinca non solo a denunciare, ma anche ad allontanarsi, ad avere la forza di non avere paura di chi li sta costringendo a questa vita ignobile e comprendo benissimo il dramma, perché è un dramma che poi si intreccia con le organizzazioni mafiose, si intreccia con lo sfruttamento dell'immigrazione come business, ma molto spesso a questo tema si reagisce solo con la repressione, ma qui non serve l'esercito, serve veramente un esercito di operatori sociali che aiuti queste donne ad allontanarsi, da quell'incubo e serve aiuto, perché a volte non si ha, anzi queste persone molto spesso non hanno la forza di allontanarsi, non hanno il coraggio, perché hanno paura. Io mi regalcio rispetto a quello che dice lei Di Maio, sulla necessità che lo Stato guardi a quelle fasce della popolazione che spesso non sono sotto riflettori, spesso che non hanno la voce troppo forte per poter gridare anche un'emergenza. L'emergenza che c'è in Italia, che spesso non si comprende è questa, parliamo dei disabili, beh ci sono 540.000 disabili nel nostro paese under 65, il 50% di questi 540.000 non ha assistenza pubblica. Beh dietro a questi numeri come sempre ci sono delle storie Di Maio, voglio far sentire la storia Di Maio, che un ragazzo di 30 anni, un uomo di 30 anni, che vive a Roma, di fatto abbandonato dallo Stato. La voce è quella della madre che racconta come, io le anticipo solo questo, parla di mostruosità della disabilità di mio figlio, ok? Dice lo Stato mi ha lasciata sola, sentiamolo. Ci troviamo di fronte a delle strutture che prendono in carico i nostri figli e loro malgrado dicono, noi li vogliamo anche prendere, come hanno detto a noi, però siccome è talmente mostruoso la sua disabilità, che i soldi che ci dà alla regione non ci bastano, quindi tenetevelo a casa. Di Maio, un governo 5 stelle, cosa farebbe per questi cittadini, per questi italiani così dimenticati? Prima di tutto tra i tanti candidati agli uninominali, io mi onoro del fatto che il movimento a Trieste abbia candidato Vincenzo Zoccano, che è il presidente del forum che riunisce tutte le associazioni che si occupano di disabilità in Italia, è ipovedente ed è una di quelle persone che mi ha sempre detto, se costruiamo un paese a misura di persona diversamente abile, lo costruiamo a misura di tutti. La vera sfida è prima di tutto cominciare a mettere soldi in queste politiche dei welfare comunali e regionali che riguardano la disabilità, ma in generale l'assistenza sociale alle parti più deboli. Per riuscire a mettere soldi non servono nuove leggi, serve soltanto che quando si fa la legge di bilancio a fine anno, si decide di tagliare da ciò che non serve e metterlo dove serve. Ora non sono io a dire che si possono recuperare 30 miliardi di Euro dal bilancio dello Stato sugli oltre 800 esistenti, lo hanno detto fior fior di professori che si sono occupati di spending review. Il 4 marzo chi vota per noi sa che ci andiamo a riprendere 30 miliardi di Euro delle nostre tasse dal bilancio dello Stato e li mettiamo lì dove servono per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Oggi noi dobbiamo prima di tutto riorganizzare le politiche per la disabilità, perché sono sempre vissute come un piano straordinario e invece devono essere l'ordinaria amministrazione. Con Vincenzo Zoccano e con tutti i forum delle associazioni che si occupano di disabilità, prima di tutto dobbiamo riordinare tutta la materia con degli stati generali che rimettano al centro le priorità. La disabilità è stato uno strumento strumentalizzato in ogni campagna elettorale e io non lancio slogan, dico rimettiamoci intorno a un tavolo e riorganizziamo il welfare nella misura in cui serve prima di tutto alle parti più deboli. In questo ci sono le famiglie che hanno figli disabili e i cittadini italiani che devono essere sempre più autonomi, nonostante abbiano una disabilità. Di Maio, allora, vediamo poi se queste promesse si troveranno conferma nei fatti, manca a oggi una settimana al silenzio elettorale, mi pare che i tempi siano maturi, ci può dire la lista dei ministri, nome per nome, siamo qui ad ascoltarla, insomma non aspettiamo altro, iniziamo da chi? No, io sono stato stamattina al Quirinale a parlare col segretario generale per informare per cortesia istituzionale il Quirinale del fatto che questa settimana noi presenteremo una proposta di squadra di governo al Presidente della Repubblica, ci sarà anche un ministero alla qualità della vita e al benessere delle famiglie e dei bambini e sarà rappresentato da una donna, presto conoscerete il suo nome insieme al nome di tutti gli altri rappresentanti dei vari ministeri, noi vogliamo che il Movimento 5 Stelle lo si possa votare non a scatola chiusa, basta votare per una forza politica senza sapere neanche chi sia il candidato premier o chi siano i ministri. Ti sembra giusto, allora, visto che lei dice che è legittimo, è legittimo, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Che non si capisce più chi sia il candidato premier perché litigano tra di loro, il centro-sinistra non ce l'ha più, prima era Renzi, adesso dicono Gentiloni, Minniti, noi vogliamo essere chiari e voglio dirle anche che nelle prossime settimane conoscerete una squadra di governo non solo con persone giuste al posto giusto, ma con le donne nei ruoli chiave perché abbiamo voluto dare non solo un grande segnale dal punto di vista del valorizzare le donne in politica, ma anche valorizzare donne super competenti in politica che abbiamo coinvolto. Allora Di Maio, lei sa perfettamente che noi non demordiamo, no? Allora, rischiamo anche di scoprire nomi e volti rispetto ai rumors che sono circolati. Vi dico alcuni nomi, Magri, Fioramonti, Becchetti, Bonafede, Toninelli, Fioravanti, Spadafora, mi dice se tra questi c'è... Lei mi può dire qualsiasi nome, io non smentisco e non confermo. Li stiamo vedendo qui anche in onda, nessuno di questi. Ma anche per una questione di cortesia istituzionale, prima di farli ho intenzione di comunicarli al Presidente della Repubblica perché come recita la Costituzione è il Presidente a nominare i Ministri sul proposto del Presidente del Consiglio incaricato e questo attiene al fatto che noi facciamo sul serio, noi vogliamo veramente portare queste persone al governo e cominciare a cambiare le cose perché poi qui tutti vogliono vincere, ma la vera sfida è cambiare, non solo vincere. Qui tutti vincevano, poi il giorno dopo sparivano e nessuno cambiava nulla. La vera sfida è cambiare con le competenze giuste e persone che mettano testa e cuore nelle cose che fanno. Di Maio abbiamo avuto, di fatto davvero poco fa, ospite Carlo Cottarelli, ex commissario della Spending Review, uno che insomma insieme ad altri ha fatto le pulci, diciamo da competente qual è a tutti i programmi e diciamo non ha lesinato critiche rispetto alle coperture di alcune riforme fiscali che proponete. Beh, alla domanda sul suo possibile coinvolgimento in un esecutivo, anche un esecutivo 5 Stelle, ha risposto così. Sentiamolo insieme. Elezioni fatte, chiunque vince, se qualcuno le chiedesse di fare il ministro accetterebbe? Dipende da fare cosa, per fare cosa. Dipende da chi lo chiede o per fare cosa? No, no, per fare cosa. Per me, io sono un tecnico, quindi sono interessato soprattutto... Quindi se anche il Movimento 5 Stelle le dovesse chiedere di fare il ministro, se le dovesse piacere... Come dico, chiunque lo chieda, se per fare certe cose, sì, per fare altre cose, no, non posso fare delle cose in cui non credo, quindi chiaramente non ci starei a fare una cosa di questo genere. Quindi con il giusto mandato accetterebbe? Ma direi di sì. Beh, lui ci starebbe, Di Maio, lei ci starebbe? Ovviamente non si recluta un ministro in diretta a Sky e non le faccio questo favore, ma sicuramente posso dire una cosa sul professor Cottarelli, che è una di quelle persone che ha messo nero su bianco la lista della spesa che dovrà seguire un governo nella diciottesima legislatura per recuperare soldi da dove non serve e metterli dove serve. Quindi io non credo che il nostro governo, anzi lo ribadisco, il nostro governo non ricomincerà da capo con la spending review. Una gran parte del piano Cottarelli è molto interessante per noi e lo porteremo avanti, lo porteremo avanti con il nostro ministro dell'economia, con i nostri sottosegretari e viceministri, con gli altri ministri che non sono dell'economia e spero comunque di poter parlare e confrontarmi con il professor Cottarelli perché è uno di quelli che aveva detto ai governi in questi anni dove andare a prendere i soldi, solo che i governi invece di eliminare gli enti inutili, le spese inutili e i privilegi hanno eliminato lui e questo secondo me non se lo meritava, anche perché è una persona che ha messo nero su bianco il fatto che esistono 8 mila società partecipate in Italia e ne andrebbe tagliata qualcuna perché alcune non hanno neanche i dipendenti, hanno solo i consigli di amministrazione. Diciamo che al professor Cottarelli c'è stata anche una proposta nei giorni scorsi dello stesso Silvio Berlusconi, il suo eventuale ingresso in esecutivo di Forza Italia. Mi pare che lui abbia smentito, infatti poi ha deciso di promuovere Brunetta al loro ministro dell'economia, contenti loro, contenti tutti, ma gli italiani devono sapere che il 4 marzo si vota tra noi e un governo con Brunetta all'economia e non si sa chi, Premier, perché Salvini dice che vuole lo fare e Berlusconi dice che non lo può fare, Meloni dice che vuole lo fare e Berlusconi dice che non lo può fare, Berlusconi è ineleggibile e non lo può fare, siamo veramente al caos preelettorale immaginate dopo. Veniamo ai 5 Stelle però, allora ci spiega un attimo se sono soltanto coincidenze. Grillo, che il Movimento l'ha fondato, ha fatto un passo di lato, non è più capo politico ed è garante. Di Battista, pur essendo in giro per l'Italia con il suo tour, con il camper, ha deciso... David Borrelli, braccio destro di Casaleggio all'associazione Rousseau, dalla sera alla mattina, se ne va, era dato per disperso per alcune ore, poi alla fine ha deciso di fondare un nuovo movimento. Che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? E soprattutto, non è che lei è il problema per qualcuno dentro il suo movimento? Beh, fino ad ora nessuno l'ha esternato, poi se dovessero dire che è così, ne verrei a conoscenza per la prima volta, ma tenga presente che Alessandro Di Battista sta facendo una campagna per le piazze italiane da un mese e non si ferma un attimo, fa tre tappe al giorno, quindi sebbene non sia candidato sta dando molto più di altri candidati di altre forze politiche. Beppe Grillo è stato con me la settimana scorsa a Torre del Greco, abbiamo fatto un evento e la dinamica è questa, quando non si vede per 4-5 giorni Grillo abbandona Di Maio, quando lo rivedono Grillo va in soccorso di Di Maio, in un modo e in un altro sbaglia, quindi è veramente frustrante stare sempre a rispondere su questo, ma non per la sua domanda, ma perché io voglio dire soltanto una cosa sul Movimento, il Movimento non è mai lo stesso del giorno prima, si evolve continuamente e aumenta sempre di persone e di consenso, negli ultimi 5 anni ci hanno dato per morti ogni 6 mesi e poi in realtà cresciamo e siamo a più del consenso di 5 anni fa, siamo la prima forza politica del Paese ed è anche normale che ogni mattina Berlusconi e Renzi ci attacchino, con degli attacchi scomposti, ma io ricordo sempre che questo Movimento deve essere un fuoco di paglia che spariva il giorno dopo l'elezione del 2013, oggi conta 46 sindaci, 2 mila eletti ed è il primo Movimento d'Europa e lo facciamo senza prendere rimborsi elettorali e senza prendere finanziamenti dalle grandi lobby. Eccoci, allora arriviamo un attimo a questo tra l'altro, voi e i vostri elettori avete in queste settimane detto e promesso alcune cose, alcune anche dei candidati, allora chiedo alla regia di sentire uno dei candidati di 5 Stelle cosa ha detto qualche giorno fa? Solamente io ad esempio personalmente dal marzo 2013 fino all'ottobre 2017, che è l'ultima data ad oggi della rendicontazione fatta, ho versato sul fondo di garanzia per il microcredito una somma superiore a 245 mila Euro con una media mensile di 4200 Euro al mese per questi 58 mesi, mi viene quasi da sorridere nel dirlo perché è una delle cose che ci sono costate apparentemente a livello economico, ma ci hanno arricchito tanto in termini di coerenza, che è la parola a cui noi vorremmo ridare una dignità vera. Allora, Buccarella veniva da sorridere, Buccarella abbiamo detto ha trattenuto 137 mila Euro, premesso che i 23 milioni che voi avete rimesso in circolo nell'economia, nel microcredito, su questo è un dato oggettivo, ma qui stiamo sui 5 Stelle però, lei non si sente anche come responsabilità oggettiva di capo politico di aver tradito quegli elettori che hanno creduto a quelle parole? Avrei tradito gli elettori se avessi lasciato quelle persone all'interno del Movimento 5 Stelle, invece le dico, grazie a un servizio di un programma televisivo siamo venuti a conoscenza del fatto che su oltre 120 parlamentari, 8 hanno fatto i furbi e li abbiamo puniti allontanandoli, ma in quella stessa giornata il Ministero dell'Economia e Finanze ha certificato che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno dimezzato i loro stipendi in 5 anni per 23 milioni 400 mila Euro che hanno fatto nascere 7 mila, 800 nuove imprese e hanno dato lavoro a 18 mila italiani, questo è un orgoglio, sono orgoglioso del fatto che i numeri tornino, cioè i conti ci sono, i soldi ci sono e abbiamo tagliato i nostri stipendi a differenza degli altri che hanno tagliato zero e sono orgoglioso del fatto che chi pensava di poterla fare franca non è più nel Movimento 5 Stelle. Allora Di Maio, voglio far vedere due cose rispetto a questo, posso dirle un'ultima cosa su questo, non mi vengano a dire che il problema è che non si può fare politica senza tutti quei soldi, perché ho fatto il Vice Presidente della Camera per 5 anni, non ho preso il doppio stipendio da Vice Presidente della Camera, l'ho fatto a metà del costo di un deputato semplice di un'altra forza politica, ho girato tutta Italia e ho fatto il mio dovere, quindi sono la testimonianza evidente che si può amministrare anche una carica istituzionale con la metà dei soldi di un normale deputato. Allora Di Maio, ci sono tra i nomi di cui faceva riferimento, lo diamo nello specifico due, Cecconi e Martelli. Allora, mettiamo che ci siano due elettori dei 5 Stelle, uno nelle Marche e uno in Piemonte. Il 4 marzo vanno a votare e dicono, beh, io voglio votare il Movimento 5 Stelle. Vediamo come faccio, vediamo che cosa si trova di fronte, si troverà di fronte al 4 marzo, abbiamo ricostruito, eccoli qui, volti e liste. Beh, si troverà Cecconi, candidato al non nominale e al proporzionale, e Martelli, capolista nel plurinominale. Quindi, in sintesi, voglio votare 5 Stelle, alla fine voto Cecconi e Martelli e, votando in quel modo, contribuerò alla fine a farli eleggere. No, perché possono votare serenamente le nostre liste, in quanto queste persone hanno firmato o stanno firmando un modulo in cui rinunciano alla proclamazione. Io vi chiederò al Presidente della Corte d'Appello di far decadere dalla proclamazione persone che hanno già rinunciato a questa proclamazione. Poi le dico anche un'altra cosa, in futuro spero che si possa fare una norma per cui è assurdo che durante la campagna elettorale vieni a sapere delle cose sui candidati e tu, come capo politico della forza politica o segretario di un partito, non puoi metterli fuori dalle liste. Ma questo è un futuro, domani si troveranno in Parlamento però Di Maio. No, perché queste persone hanno rinunciato alla proclamazione, che è quella fase che viene tra il giorno del voto e il giorno in cui si entra in Parlamento. Quando si viene proclamato, io chiederò come capo politico ai Presidenti di Corte d'Appello di non farli proclamare. Alcuni costituzionalisti non la vedono così facile questa procedura. E altri dicono invece che è così. Poi comprendo il fatto che negli anni i partiti candidavano i camorristi e li facevano pure eleggere. Per esempio qui in Campania il Centro-Est ha candidato l'autista di Raffaele Cutolo, che è il camorrista che ha fondato la nuova Comorra organizzata. E non ci sono mai posti il problema di farli decadere. Noi ci poniamo il problema anche di far decadere persone che hanno fatto donazioni, che erano soldi loro che dovevano restituire. Non le hanno fatte, non hanno mantenuto un impegno e per questo gli ho chiesto anche di rinunciare. Più di così... Ti faccio capire una cosa da qui al 4 marzo, o meglio il 4 marzo. Allora, se ho capito bene, lei ha un risultato importante, ma non tale da poter formare un nuovo governo, né avere una maggioranza. Dice io vado alle camere, vado lì con 20 punti e vediamo se ci stanno, no? Se tutti i partiti chiamati a rispondere ci stanno rispetto alle nostre proposte. Io voglio farle vedere tre punti su cui già adesso non c'è un accordo. Di fatto le forze politiche hanno già detto che non sono d'accordo. Ad esempio sul reddito di cittadinanza, sul superamento della buona scuola, sul superamento della legge Fornero. Ma se questo è il punto di partenza e soprattutto voi dite, beh, sosteneteci, ma non pensate assolutamente di avere voce in capitolo rispetto a, diciamo, le poltrone dei ministeri e dei ministri. Come pensate davvero che sia credibile una proposta di questo tipo dopo il 4 marzo? Prima di tutto, tengo a precisare che sia PD che centrodestra nei loro programmi parlano di reddito di inclusione e reddito di dignità, che non so se le ricorda qualcosa. Sono diversi da quello di cittadinanza però, sono un po' diversi. Ma di che? Questi sono soltanto dei modi per copiarci una misura senza dire che è la stessa. Per non parlare poi della follia per cui centrosinistra e centrodestra, nel caso della legge Fornero, hanno votato la legge Fornero e oggi dicono o di volerla superare o di volerla abolire. E per quanto riguarda la buona scuola, siamo alla follia perché hanno fatto la riforma della buona scuola, quelli del PD, e adesso dicono di volerla superare e evolverla. In realtà quello che stanno dicendo in politichese è che hanno fallito su tutta la linea e vogliono portare avanti quelle misure. Ma detto questo, se posso spiegarle in pochi minuti che cosa prevedo io dopo le elezioni. Pochi minuti sono troppi. Prima di tutto, va bene, un minuto. Prima di tutto noi nel 2013 l'ultimo sondaggio a 15 giorni delle elezioni ci davano al 18%, abbiamo ottenuto il 25%, oggi ci danno al 30%, 29%, vedremo a quanto arriveremo, magari potremo arrivare anche alla maggioranza assoluta se i cittadini vorranno. Se non dovessimo arrivarci, io non è che voglio presentarmi alle Camere e dire chi è d'accordo e chi non è d'accordo, io lancio un appello pubblico e dico ditemi quali sono le vostre priorità per l'Italia, le nostre sono i 20 punti per la qualità della vita degli italiani, incontriamoci se serve in maniera trasparente, contrattiamo insieme quale deve essere il programma dei lavori della 18esima legislatura e poi iniziamo a lavorare insieme alla prova dei voti, quindi fidandoci sui voti e non sulle parole, vedremo che cosa ne uscirà, perché questo è un paese che ha 10,5 milioni di poveri e in cui i centri per l'impiego umiliano i disoccupati, credo che il reddito di cittadinanza sia uno strumento che aiuta a trovare lavoro, non ad assistere le persone. Mi spiega bene quello che ha detto, nel senso che ho capito che da parte sua c'è anche un senso di responsabilità, queste sono le urgenze del paese, l'appello alle forze politiche cerchiamo di capire se c'è una strada comune da poter percorrere insieme, se il capo dello Stato dovesse chiederle un senso maggiore di responsabilità, nel senso, lei ha ottenuto questo bacino di voti, se la sentirebbe di mostrare una ulteriore apertura con quei partiti con i quali c'è di fatto, anche guardando i programmi, qualche punto di incontro? In molti hanno parlato della Lega, ci sono alcuni punti in comune dall'euro all'immigrazione, alle critiche che voi muovete alla Fornero, c'è la possibilità, mi faccio capire se concretamente c'è la volontà da parte del Movimento 5 Stelle di dire, beh, abbiamo di fronte questa responsabilità politica, che facciamo? Che fate? Responsabilità politica per ora siamo gli unici che se la stanno prendendo, pure nelle dichiarazioni, lei sente Berlusconi e Renzi dire, se non c'è la maggioranza si torna a votare, come una roulette, finché non arriva il risultato che gli piace si torna a votare, perché? Perché si erano fatti una legge elettorale per mettersi insieme il giorno dopo le elezioni e adesso non hanno più il 51% insieme perché il PD sta al 20 e Forza Italia sta al 15. Noi diciamo, la squadra dei ministri la presentiamo prima perché di scambi di poltrone non se ne parla, ma se dobbiamo dare un governo a questo Paese non bisogna pretendere dal Presidente della Repubblica l'incarico, bisogna prima di tutto nel tempo che va dal 4 marzo delle elezioni ai giorni successivi trovare una convergenza sui temi per dare un programma dei lavori alla diciottesima legislatura intorno al quale si possa provare a formare un governo. Siamo gli unici che stanno dicendo ai cittadini non vogliamo lasciare l'Italia nel caos. A chi guardate? Perché lei sta dicendo una cosa che fa capire che c'è un'apertura a qualcun altro, a qualche altro soggetto politico. Voi immediatamente a chi guardate? Lei tempo fa disse che il soggetto politico più vicino a noi sarebbe liberi e uguali, ma non ha la forza, non ha i numeri per poter... Non credo di aver mai detto che è il soggetto più vicino a noi. Lei aveva detto che purtroppo arrivano al 6%, non glielo dico perché l'abbiamo fatto sentire ieri a Pietro Gasso. Credo di aver detto un'altra cosa, cioè di aver detto che fino a che non conosceremo la composizione dei singoli gruppi è inutile parlare di convergenze sui temi, ma soprattutto voglio dire un'altra cosa, io faccio un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari. Forse è il caso di cominciare a chiedere ai gruppi parlamentari se possono essere disponibili ad una convergenza sui singoli temi. Io di loro non mi fido, ma voglio fare in modo di vincolarli ad un programma dei lavori che è un contratto tra forze politiche nei confronti dei cittadini. Come li vincola questi partiti? E quel contratto è il programma. Li vincola come? Come riuscirà in pratica a vincolare? Io sono stato vicepresidente della Camera per 5 anni, conosco bene come si compone il programma dei lavori di una legislatura, si possono stabilire tempi, modi e metodi per approvare per esempio una norma che abolisce studi di settore, split payment, spesometro, redditometro. Si può stabilire la data e il momento in cui si va a votare insieme un provvedimento che finalmente porta le pensioni minime sopra la soglia di povertà. Mi fa fare un momento check room, visto che noi facciamo il fact checking. Allora, studi di settore spesometro, l'abolizione e l'addio già previsto nel 2019, lo split payment costerebbe una decina di miliardi di euro, soltanto questo rispetto a quello che avete già detto voi rispetto alle leggi inutili da abolire? Questa era una piccola precisazione su questo. No, posso dirle una cosa per questo? Prima di tutto, l'abolizione degli studi di settore rappresenta la perversione culturale con cui si fanno le abolizioni di cose inutili in Italia, perché si aboliscono gli studi di settore, poi si dice abbiamo scherzato, invece che dal 2017 se ne parla nel 2019, ma si inserisce il ranking di impresa, che sono altre scartoffie. Noi in cima al nostro programma abbiamo inserito 400 leggi da abolire, perché in tutta Europa non si stanno chiedendo come fare leggi più velocemente, ma come farne di meno. Noi vogliamo eliminare ciò che non serve e quando lei dice costa 10 miliardi, ma perché qui stiamo partendo dal presupposto che lo split payment sia uno strumento che combatte gli evasori, invece sta combattendo la gente onesta. Per combattere gli evasori dobbiamo unificare le banche dati della pubblica amministrazione, Camera di Commercio, IMS, Comuni, Regioni, le metti insieme e trovi furbi, ma trovi grandi evasori, quelli che non hanno mai voluto perseguire incrociando i dati delle pubbliche amministrazioni. Mi dice, stiamo un po' stretti coi tempi, rapidamente, voi nel vostro programma dite di combattere i grandi evasori, ho letto questo, anche nei 20 punti, nel dettaglio dei 20 punti, quindi i piccoli evasori possono continuare a evadere? Ma non è questo il punto, il punto è che la grande evasione in questo paese non solo non è mai stata combattuta, ma è stata favorita con gli scudi fiscali. La piccola, è logico che va combattuta, per carità, la piccola evasione, ma possiamo dirci oggi che lo Stato è stato debole con i forti e forte con i deboli, ha fatto sembrare che l'evasione fosse lo scontrino del commerciante quando poi faceva lo scudo fiscale alle organizzazioni criminali che portavano i soldi all'estero e le facevano rientrare al 5%, io questo concetto lo rivendico, perché si è dato il 70% di tassazione alla gente onesta e poi ci si è accaniti solo su di loro, senza mai perseguire chi ha provocato il buco di 300 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale, gli esperti. Allora, torniamo anche all'altra partita perché il 4 marzo si vota per le politiche ma si vota anche per le regionali, la vostra candidata alla presidenza della regione Lazio, Lombardi, auspica una regione che ospiti più turisti e meno migranti, uno slogan che farebbe suo, Italia con più turisti e meno migranti? Si rivede in queste dichiarazioni? pubbliche tra l'altro. Io credo che sia auspicabile che l'Italia ottenga più turisti e allo stesso tempo faccia in modo da non favorire più il business dell'immigrazione. Quindi è d'accordo con Lombardi anche nei toni? No, non credo che si possa tutto riassumere in uno slogan come quello di Roberta, però io ho ben presente Roberta che persona sia e non è sicuramente una persona intollerante o razzista, ma sta semplicemente dicendo che invece di investire 4,5 miliardi di Euro nell'accoglienza in Italia, facciamolo nella cooperazione allo sviluppo per rimpatriare chi non può stare qui. Allora, nel vostro programma si parla anche di accorpare le forze di polizia, ci sono tanti immaginiamo carabinieri, poliziotti, finanzieri, lo speriamo naturalmente che ci stanno guardando in questo momento. Possiamo e può dire a loro che con voi al governo saranno tutti accorpati in un unico corpo di polizia? No, noi parliamo di razionalizzazione che è un altro concetto. Guardi, mi permetta di dire sulle forze di polizia, sull'esercito, in questi giorni stanno circolando tante fake news sul nostro programma nei loro confronti. Io ringrazio le forze dell'ordine e conosco bene la differenza che c'è per esempio tra l'arma dei carabinieri e la polizia di Stato. Non li accorpate comunque. E non so se l'accorpamento di questi due corpi sia possibile. So benissimo che bisogna razionalizzare le centrali operative. Ma lei lo farebbe? Mi dica solo questo, lo farebbe un accorpamento? Il numero unico per chiamarlo. Io ho sempre parlato di razionalizzazione e in questo momento è anche un po' inquietante pensare ad un unico corpo di polizia che abbia dentro centinaia di migliaia di persone comandate da un unico comandante. Quindi in questo senso noi parliamo di razionalizzazione ma non per forza di accorpamento. A cosa si dice? A che pericolo si riferisce? Sicuramente esistono pochissimi casi in Europa di un'unica forza di polizia che ha centinaia di migliaia di agenti. Non è un pericolo, però potenzialmente sicuramente mettere a capo un solo comandante di un intero corpo che tenga dentro centinaia di migliaia di persone. Mi permetta solo di dirle che nel resto d'Europa ci sono meno forze di polizia, nel senso sono più accorpate rispetto all'Italia. Ce ne sono di meno ma non ce n'è un'unica. Qui non stiamo parlando di accorpare tutto in un'unica, stiamo parlando di razionalizzare le spese, riorganizzare le specialità in modo tale che ognuna possa avere delle determinate specialità, ma non per forza mettere insieme corpi militari e corpi civili. Le faccio la stessa domanda che ho fatto agli altri candidati che sono venuti qui in studio. Stiamo sul tema della sicurezza. Mettiamo che alle tre di notte le entra un ladro armato in casa e lei fosse in possesso di un'arma naturalmente legalmente detenuta, non so se detiene un'arma in casa. Comunque, mettiamo fosse in possesso di un'arma. Cosa farebbe? Io spero sempre di poter reagire senza dover utilizzare un'arma. Se si trova di fronte a un ladro armato che fa? Noi siamo stati quelli che hanno chiesto un inasprimento, oppure mettiamola così, di tutelare la legittima difesa maggiormente. Quindi anche in Parlamento con il mio collega Ferraresi abbiamo presentato una proposta di legge che chiede di tutelare chi esercita la legittima difesa. Lei che farebbe? Lei che farebbe di mano? Prima di armare. Io non voglio un'arma in casa, non la vorrei mai un'arma in casa, perché so che in quel momento posso giocare con la vita di una persona. Invece voglio, siccome pago il 70% di tassazione, la paga per esempio mio padre sulla sua impresa, la pagano i cittadini sulle imprese e la più alta dell'Occidente, voglio che si faccia un concorso che assuma 10.000 tra agenti di polizia e carabinieri che fanno pattugliamento, prevenzioni e indagini in modo tale da ridurre il rischio che mi entrino in casa. Dovrebbero presidiare tutte le abitazioni del nostro paese, è un po' complicato. No, ma non è questo il punto. Il punto è che se in Italia vecchi uno che sta rubando e dopo due giorni è di nuovo fuori, anche i carabinieri o i poliziotti sono scoraggiati dall'arrestarlo. Qui la frustrazione non è solo dei cittadini, ma anche delle forze dell'ordine che ogni giorno provano a mettere gente dentro che viene messa fuori grazie agli svuotacarceri, grazie a leggi che non faremo mai più. Se servirà noi costruiremo due nuove carceri, riutilizzeremo quelle che hanno chiuso. In ogni caso vogliamo permettere la certezza della pena. Chi va in galera ci deve restare. Di Maio, allora, insomma, lei è molto attiva sui social. Vediamo che succede sui social, che succede in questo mondo parallelo, il mondo del web e quali sono i temi più discussi. Eccoci con la nostra Pamela Foti, collegata con noi, la nostra redazione in diretta. Eccoci da te Pamela. Allora, Salvatore Cagliata, ne avete parlato anche prima. Bisogna dire però che il nome del candidato 5 Stelle oggi è stato in cima alle discussioni in ronda sui trending topic. E a proposito di rete, volevo dire a Di Maio che oggi in redazione sono arrivate per lui tantissime domande. Non esagero se dico centinaia di domande. Per motivi di tempo abbiamo potuto sceglierne soltanto una. Una domanda dietro la quale c'è la storia di un uomo, e cioè Di Gino, che dice, cosa intende fare per i disoccupati over 50? Sono disoccupato da 4 anni e per questo paese sono vecchio per un altro lavoro. Di Maio. In un altro paese d'Europa, una persona di 50 anni che perde il posto di lavoro, viene chiamato dallo Stato. Lo Stato gli dà un reddito, lo forma per un lavoro che serve e poi gli fa 3 proposte di lavoro. Se non accetta perde quel reddito di sostegno, se lo accetta perde quel reddito di sostegno perché ha trovato un lavoro. Siamo in un momento fondamentale dell'Italia in cui nei prossimi 7 anni il 60% dei lavori si trasformerà. O riusciamo a riabilitare, riqualificare lavorativamente le persone che perdono il lavoro, o avremo tanti fantasmi, over 50, over 60, che cercheranno un lavoro ma non lo troveranno perché per 30 anni hanno fatto un'altra professione, un altro lavoro. Questo è un momento importante in cui i centri per l'impiego invece di umiliare i disoccupati li devono aiutare e in cui si istituiscono strumenti come il basic income che esiste in tutti i paesi europei, anche nella liberalissima Inghilterra che aiuta a trovare lavoro a chi non ce l'ha e mentre si forma gli dà un reddito di sostegno. Torniamo da Pamela, eccoci da te Pamela perché ci sono delle immagini, soprattutto un'immagine che è stata anche postata sui profili social, sul blog delle stelle che poi in un'altra versione ha fatto il giro del web. Eccoci da te. Di Maio, lei qualche settimana fa ha fatto attraverso questo documento una proposta precisa a tutti i leader dei partiti politici, cioè ha chiesto di approvare al più presto una norma per il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Qualche ora dopo però in rete qualcuno ha iniziato a ironizzare, possiamo dire così, sulla forma di alcuni verbi contenuti e scritti in questo documento. C'è addirittura chi ha fatto dei cerchietti o ha assegnato delle parole e chi si è spinto oltre e ha pensato di darle un voto che è sotto la sufficienza. Diciamo allora una cosa Di Maio, l'ostacolo congiuntivo sarà superato da qui al 4 Marti, insomma non lo sarà più da qui in avanti. Guardi non fanno più notizia, sto iniziando a sbagliare i gerundi, magari riesco a fare più notizia visto che non si parla mai del merito ma di queste cose. Tra l'altro a quei signori che hanno fatto i maestrini ho risposto che quella forma è corretta e lo dicono anche fior fior di persone che si occupano di grammatica. Io vedo sempre questi maestrini che ci correggono continuamente la forma, ma in quella sostanza c'è scritto che io chiedo a tutti i leader delle forze politiche di sottoscrivere un impegno a tagliarsi lo stipendio e a rendicontare tutti i rimborsi spese dei parlamentari. Gli chiedo di impegnarsi a nome delle loro forze politiche, nessuno mi ha risposto. Credo che dovesse fare notizia più questo che una sbagliata correzione su quel documento. Allora Pamela, volevamo strappare un sorriso a Di Maio, ci riusciremo più avanti, ne sono certo. Allora sull'Euro invece cosa ci fai vedere? Sì, vi faccio vedere un video realizzato dalla testata online Il Post. Hanno messo insieme le dichiarazioni dei big, cioè di Di Maio, di Battista, di Grillo, hanno messo insieme le dichiarazioni dei big di partito per vedere le loro posizioni nel passare degli anni sull'Euro. Quindi Euro sì o Euro no? Vediamo insieme. Sei uno scettico! Dobbiamo uscire dall'Euro il prima possibile. Io non voglio uscire dall'Euro! Ma uscire è più velocemente possibile. Non ho mai detto di uscire dall'Euro! Uscire dall'Euro si può. Io non ho mai detto di uscire dall'Europa da me. È il nostro diritto avere una nostra moneta. Io all'inizio ero scettico di uscire dall'Euro. E l'Euro c'ha distrutto. L'Euro c'ha matto. Il Movimento 5 Stelle non ha nessun interesse ad uscire dall'Euro. Chi vuole uscire dall'Euro deve poterlo fare. Noi non interessa uscire dall'Euro. Se non ci liberiamo dall'Euro, il medigiorno d'Italia diventerà una terra desolata e spopolata. E avete deciso Di Maio su questo alla fine? La sintesi è? Posso dirle una cosa? L'Europa negli ultimi 5 anni è cambiata radicalmente. L'Inghilterra se n'è andata, la Germania non riesce a fare un governo, la Francia non ha più partiti tradizionali asfaltati da Macron, la Spagna e il Portogallo ha dei governi di minoranza. Oggi rispetto a 5 anni fa lo scenario europeo è cambiato, l'Italia può contare molto di più. Deve eleggere dei politici che vanno a quei tavoli a dettare condizioni e a chiedere diritti per gli italiani, ma ci sono molti più spiragli per ottenere risultati. Ed è per questo che noi oggi diciamo, prima di parlare di uscita dall'Unione monetaria, proviamo a cambiare i trattati che girano intorno all'Unione europea e all'Unione monetaria. Cambiano le condizioni politiche, cambiano anche i comportamenti per ottenere lo stesso risultato. Io 5 anni fa ero scoraggiato, avevamo un monolite che era il governo tedesco, l'asse franco e tedesco fortissimo. Adesso sta cambiando lo scenario, io voglio andare in Europa a dire, ci dovete concedere quello che hanno ottenuto già Spagna e Francia, cioè poter investire negli aiuti alle famiglie, nell'abbassamento del costo del lavoro per gli imprenditori, anche facendo investimenti in deficit. È una cosa che hanno fatto loro, voglio poterla fare anche io come nazione. Allora Di Maio, siamo in chiusura, torniamo al punto di partenza, torniamo ai ragazzi, ai diciottenni, torniamo a quando anche lei era ragazza e quando lei aveva diciott'anni. Beh, nel 2004 lei aveva diciott'anni. Non so se da Caserta arriva qualche nota e se la riconosce nel 2004. Mi dica, non l'ho sentita perché sento... La musica sente, che musica è? Ma non è qui, non è qui, credo che sia in cuffia, non so, credo sia la vostra redazione che ascolta Vasco. Eh no, ma è fatta apposta, era per introdurla in quel 2004, questo è Vasco Rossi, di Buoni o Cattivi. Ah, ho capito, no mi scusi allora, c'è stato un problema di tutti. Era Vasco quello che ascoltava di più quell'anno? Ma io ho ascoltato sempre un po' di tutto, Vasco mi piace e mi piaceva assolutamente. Si riconosce, diciamo, dentro i 5 Stelle sono più buoni o più cattivi? Visto che abbiamo preso questa canzone che era poi un lit di quell'anno. Sono più buoni ma tra grande maggioranza, anche perché noi cattivi li mettiamo fuori direttamente. Allora, tra l'altro era il 2004, diciamo abbiamo come di consueto scattiamo tre fotografie di quell'anno, di quel 2004, vediamo insieme cos'è successo. Beh, è nato a proposito di web, di social, è nato Facebook, insomma strumento di comunicazione forse tra i più diffusi, forse il più diffuso anche naturalmente in questi anni, poi naturalmente gli attentati in Spagna, l'attacco ad Atoce e poi Prodi con l'Ulivo che vince le europee. Sembra un secolo fa ma alla fine era successo nel 2004. Allora, lei mi ha detto in apertura che dicevi non ho votato, mi ero stenuto se non sbaglio, no? Nel 2008 mi sono astenuto, mentre nel 2004 quando ho votato per la prima volta ho votato alle comunali, era una lista civica e poi nel 2006 ho votato una forza politica che si era presentata alle elezioni politiche e si occupava di disabilità, aveva il disegno della sedia a rotelle nel simbolo. Bene, io ringrazio, grazie a Luigi Di Maio, candidato a premio del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie per essere stato con noi.